Questo lunedì 10 agosto a partire dalle ore 21 ci sarà un'occasione unica per saperne di più dei tesori artistici dell'Alessandrino. Sarà infatti Vittorio Sgarbi con il suo stile unico a catturare l'attenzione degli spettatori presenti in Piazza Santa Maria di Castello ma anche collegati via computer in streaming. Sarà questo il clou dell'appuntamento della milanesiana di resistenza intesa come opposizione alla pandemia da Covid. La rassegna ideata dalla sorella Elisabetta Sgarbi che approda per la seconda volta ad Alessandria con questo appuntamento di grande livello culturale e allo stesso tempo molto divertente. Ho voluto portare e lo vedremo Vittorio Sgarbi a raccontare i tesori dell'arte di Alessandria. Con lui un straordinario gruppo musicale che avete già conosciuto ma che oggi è sulle pagine dei giornali con grande enfasi perché hanno scritto la sigla ufficiale del Giro d'Italia. Guardate su YouTube il video meraviglioso che in poco più di una settimana ha raggiunto i 20.000 followers. sono gli extra liscio, eseguiranno questa sigla ufficiale del Giro d'Italia e poi tante canzoni di repertorio dal ballo della rosa che è la sigla della milanesiana, milanesiana di riviera, merendine blu che poi cantano con Orietta Berti e tante altre canzoni del loro vivace e pieno di colori repertorio. Grazie. Grazie.